Ciao carissimi amici benvenuti a Row 50 crudo a metà in questo momento mi trovo nella bellissima scuderia il mulino e precisamente a Villa Albernia Piemonte tra l'altro in queste vallate è nato Fausto Coppi ed è un dettaglio simpatico volevo farvelo sapere e tra l'altro qui i fratelli Coppi facevano i loro allenamenti adesso siccome siamo andati a cavallo i miei amici è giusto rinfocillarci con delle frittelline di farina di ceci veramente molto molto semplici allora qui io ho tre tazze di farina di ceci quindi inizio a versarle nella mia ciotola non so se la userò tutta perché io poi vado un po' a occhio sapete che preferisco assaggiare la lasciarmi poi che bello il gallo aggiungiamo un pizzico di sale anche due pizzichi che bello il gallo sentite e poi un pochettino di olio e un pizzico di pepe poi a chi piace un pochettino anche di rosmarino che spuntino questo pomeriggio adoro il gallo e gentilmente aggiungiamo un pochettino d'acqua mi raccomando non versatela tutti insieme l'unica accortezza che vi chiedo quella di aggiungerla pian piano perché eviterete i grumi e le nostre frittelle riposeranno per una mezz'oretta e poi io le passerò in una padellina anche adierente e celebreremo queste frittelle sono straordinarie perché sono chiaramente vegane nessun animale ha sofferto e quindi questo è una cosa bellissima e poi sono ricche in proteine ma ovviamente mi fa piacere ricordarlo in video cerco sempre di ricordare questa cosa mi raccomando tutti i legumi vanno associati con i carboidrati con i cereali affinché le proteine diano il meglio e quindi affinché l'organismo possa assimilarle come tali questa è la consistenza eccola qua se volete le fate riposare altrimenti li mettete all'oper e le passate in padella allora questa è la consistenza ci vediamo tra poco le vado a passare in padella ciao queste bellissime buonissime frittelle di farina di ceci senza glutine tra l'altro sono pronte adesso voglio sapere cosa ne pensa ottima sei sicura? deliziosa ragazzi lasciatevi un po' anche a me qualcuna mi sa che ne vuole una grazie facci sapere com'è buone buone deliziosa deliziosa zia hai detto giusto delicious veramente veramente buone se volete proporre questo spuntino pomeridiano ai vostri amici sarà un successone ed è stato veramente semplice vero? quindi io vi chiederei un bel like a questo video like this video pollice in su pollice in su maria il voto? eh io direi 20 brava 8 e mezzo 8 e mezzo benissimo regista? bene eh no 9 bene bene un altro vedi che ha lungato la mano 10 bene quasi 10 eh ok allora io devo dire la verità mi sono piaciuta molto 10 ciao no io ho cambiato io prendo grazie 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 grazie